Quarta giornata della Liga Aktea, No Filo Galaxy contro Real Catania, partita conclusa con il sultato di 3 a 1 e qui con noi l'uomo partita Aktea, il portiere, la placa del No Filo Galaxy che ha dimostrato ancora una volta di avere grandi dodi in porta tra i pali. Io ringrazio tutti voi per questo giudizio, in realtà io ho fatto il portiere, ho parato, la squadra questa volta ha giocato bene, finalmente è venuto del campo, forse un po' abbandaggiati del numero, eravamo uno in più, però finalmente abbiamo fatto una bella partita, abbiamo giocato bene, equilibrati e abbiamo potuto vincere. Dobbiamo segnare di più, ora lo dirò. Poi io vi ringrazio, un portiere che viene così, lo fate apposta per avere i portieri che si fanno vedere. Diciamo, nei momenti decisivi riesci a essere determinante e questo deve fare il portiere, no? Esatto, non sono in porta, devo parare. Bene, comunque complimenti ancora. Grazie, grazie a voi.